bentornati bentornati sul canale bentornati sul canale e si parla di interudinese si parla di campo con le parole di inzaghi con le parole sì volevo chiarire anche questa cosa perché mi avete scritto in privato in tanti chiedendomi un parere sulla notizia del giornale riguardante un eventuale cambio di proprietà breve un passaggio a un fondo americano non meglio specificato io lo sapete quando non ho non ho argomenti quando non ho evidenze a livello personale mi sottraggo dal commentare notizie di altri io a me non risulta non risulta un cambio una svolta proprio in medaglia non mi risulta quindi ognuno ha le proprie fonti da quello che so io la cessione di suning è ancora ancora lontana perché è alto il prezzo e non mi non mi sembra sia stato così tanto abbassato come come ho letto però quindi questo è quanto posso dire invece sposo in pieno le parole di inzaghi piccola polemica poi vi parlo di quello che ha detto in zaghi a inter tv giorno di vigilia quindi alla vigilia della partita di di oggi con l'udinese a me questo fatto piccola piccolissima polemica potete concedermela no tanto siamo tra di noi a me questo fatto che che l'allenatore dell'inter non solo in zaghi ed è evidente che che la questione non riguarda il singolo non non dipenda dal singolo ma sia un qualcosa deciso dai piani alti a me questa cosa che l'allenatore dell'inter non parli a ogni conferenza pre partita o parli soltanto alla televisione di casa o che ci sia sempre questa fretta nelle conferenze pre post partita mentre io vedo altre conferenze che con tutta calma vengono organizzate si parla si fanno le pongo le domande quando la platea diciamo è soddisfatta si chiude la conferenza e l'inter c'è sempre questa fretta voi fateci caso conferenze durano 10 12 minuti massimo 14 anzi 14 come sarebbe la dizione corretta in italiano è sempre questa questa questo sentore di dover sbrigarsi non più di una domanda a testa a volte la fa una volta la fa l'altro non non si riesce a contentare tutti c'è sempre questa fretta sempre questa fretta e dove devi andare come direbbe un regista molto molto apprezzato e cosa devi fare le parole sono importanti le parole sono importanti ma anche il tempo è importante in zaghi allora o parla poco lo fanno parlare poco o parla la tv di casa o non parla non lo so è una poi voi direte ma tanto le domande che vengono fatte sono domande banali sono domande sciocche questo è un altro discorso però questo però un altro discorso questo è un altro discorso è piccola polemica non non condivido questo modus operandi ormai da anni quindi non credo ci sia una persona dello staff che indichi oppure l'allenatore di turno che che non voglia perché bene o male gli allenatori appesa a tutti parlare no credo sia proprio una questione che che riguardi i piani altissimi i piani altissimi che io non condivido nel 2023 questo tipo di comunicazione questo tipo di gestione della comunicazione non la condivido detto questo condivido invece le parole di in zaghi che ha detto alla tv di casa perché perché ha difeso la prestazione dei suoi con la samp e ha rimarcato l'importanza delle prossime partite noi cerchiamo sempre la vittoria il genova la sorte non c'è stata mica probabilmente dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol ma la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto e ha provato a vincere la partita fino al 95esimo allora che ci ha provato fino al 95esimo è vero atteggiamento giusto ni la sorte non c'è stata mica no perché della sorte non vuol dire nulla a meno che non te cade un una pera che sbatte sul pallone che invece di entrare in porta va sul palo e la squadra auto dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol e sì e quindi l'atteggiamento non è stato proprio correttissimo e devi essere più cattivo e preciso è un tuo difetto non c'entra nulla la sorta è un tuo problema che va risolto o sul lavoro o sul mercato su barella lui dice tiene tantissimo alla causa grandissima carica sempre voglia di vincere a volte questa carica lo fa innervosire sbagliando secondo me è giusto che maturi il ragazzo sardo e sudinese porta e bologna in fila sono tre partite importantissime tutte in una settimana dovremo essere bravi ad affrontarlo nei migliori dei modi sapendo che saranno match diversi tra loro ma al momento pensiamo solo all'udinese su questo nessun dubbio si deve sempre pensare partita dopo partita perché devi pensare a una partita alla volta altrimenti il rischio è quello di continuare a fare scivolate una dopo l'altra veniamo alle probabili anzi alla probabile formazione dell'inter di questa sera contro il contro l'udinese allora qualche dubbio in zaghi se lo porta dietro innanzitutto in difesa c'è la possibilità di rivedere defray al centro della difesa torna bastoni rispetto a genova torna anche di marco a sinistra rispetto a genova perché gusen se è recuperato ma dovrebbe andare in panchina quindi al massimo in panchina però mi tengo la carta cerbi perché l'udinese giocherà verosimilmente con una punta con le spalle per eira staffetta prevista contro ven la punta è beto dovesse uscire beto entrerebbe success due punte fisiche contro le punte fisiche acerbi va a nozze chiedere a osimen defray fa una fatica terribile terribile anche se la punta è una punta scarsa se è fisica defray fa fatica e allora io spero auspico la conferma di acerbi tra screener e bastoni altro dubbio a destra lì ci sarà da fronteggiare udoghie o udoghie o udoghi non so come si dica metto la mia ignoranza in questo caso don fris o darmian punto la mia fiscia personale stavolta su don fris secondo me secondo me c'è spazio per rivedere l'olandese titolare e darmian pronta a subentrare o comunque un minimo di riposo in vista del porto e turn over sì ma ormai parliamo di gente che più o meno si pareggiano chi più chi meno non è che togli un'ana e metti cordaz tutto il bene a centrocampo dovrebbe tornare invece marcello brosovic a distanza di non si può dire di un girone perché ormai col campionato sfalsato quel girone sfalsato sapete che non conta però diciamo da udinese a udinese ecco questo possiamo dirlo il 18 settembre l'ultima da titolare di epic broso con la maia dell'inter e torna con l'udinese doveva tornare già con la sampdoria poi ha cambiato idea in zaghi aveva quel dubbio ha riproposto mkhitaryan con celanolu davanti alla difesa vediamo se poi come interno giocherà celanolu o mkhitaryan anche qui non lo so non lo so tutti danno celanolu io anche secondo me partirà celanolu però mi tengo anche qui una una porta aperta del mkhitaryan e broso a fianco di barella come mezzo alla destra e vedremo chi mezzo alla sinistra abbiamo detto di marca sinistra in attacco l'ultimo dubbio di in zaghi allora dovrebbe essere confermato lukaku che ha bisogno di minuti e il tecnico di piacenza sembra intenzionato a darglieli concordo lukaku come ho già avuto modo di dire nonostante tutto secondo me è stato il migliore tra gli attaccanti schierati a marassi e a fianco a lui lautaro gecko secondo me lautaro anche per muovere un po la difesa molto forte fisicamente dell'udinese con becao biol e nao emperes secondo me lautaro parte retolare gecko pronta a subentrare e a quel punto mkhitaryan eventualmente anche jolly in panchina con carboni considerando che correa resta l'unico indisponibile un saluto